Al centro per Teramo la lista che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio resta fuori dalla maggioranza di centrodestra e l'unico dato certo dopo la riunione che si è tenuta ieri sera e che doveva discutere del rimpasto di giunta per il varo del Blucchi-Terre. I Dalmati in un comunicato spiegano che non ci sono le ragioni e le condizioni per un rientro organico in maggioranza e quindi continueranno a votare e valutare i provvedimenti caso per caso. Il sindaco Brucchi avrà altre 24 ore di tempo per continuare l'opera diplomatica ma lo spettacolo che sta andando in scena in questi giorni certamente non è dei più edificanti. Lo stesso primo cittadino in settimana aveva assicurato che la giunta sarebbe stata pronta prima del weekend e solo il tempo potrà dire se sia vero oppure sia una promessa da marinaio. Dal comune fanno sapere che da parte delle forze che compongono la maggioranza c'è la volontà di proseguire l'esperienza di governo e in questa direzione si muove la sottoscrizione del documento programmatico imbastito dal primo cittadino che reca oggi in calce 17 firme che potrebbero però salire a 19 se i fratelli d'Italia, Sbraccia e Michedi decidessero di tornare nella corte di Brucchi. Sicuramente decisivi nelle prossime ore per sbloccare la situazione o per aggravarla definitivamente saranno i nomi dei nuovi assessori che il sindaco metterà nero su bianco ma soprattutto gli impegni che il primo cittadino chiederà ai gruppi politici. Il tempo stringe però, il 14 giugno c'è il voto di bilancio.